Divino maschile e divino femminile nel percorso delle fiamme gemelle? No, grazie! Se ancora credi a questa balla del divino maschile e del divino femminile, se sei in un percorso di fiamma, allora ascolta questo video fino alla fine perché cambierai idea. Ma prima di tutto metti mi piace al video, spaccalo di mi piace, rompi proprio il tasto, fallo gridare pietà, e poi iscriviti al mio canale che è quello di Jimmy Fascina e clicca sulla campanellina per avere notifiche per quando escono i nuovi video. Sono Jimmy Fascina, ricercatore nel mondo dei fiamme gemelle, ipnologo, lettore del regista Akash, numerologo, cartomante, operatoro onisto, utilizzo di varie tecniche di modificazione energetica, tra cui reiki e tantissime altre cose, operatoro dei campani tibetane e di cristallo, operatoro di matix energetics, operatore bassi access consciousness, parapsicologo, diprovato alla scuola iniqua di Mr. Mbeterum di Slavikering, diplomato alla scuola di riconoscimento intuitivo del sintomo di Gabriella Mereu, e tante altre cose che ho visto alle gare che sono troppe, ok, insomma, di cose ne ho fatte, vi ricordo che se volete sostenere il mio canale potete fare una donazione, soprattutto durante le premiere, premendo il tasto su S, diciamo con la S del quadrato, che è super chat, super sticker, sono più possibilità, se non è durante le premiere, potete fare una donazione tramite, qui sotto trovate due in descrizione, scusatevi, ero strutturato, sì, pardon, bello del registrare i video in diretta, dicevo, potete fare una donazione tramite T-Spring, che è il servizio dove, diciamo, se comprate le tazze che ho creato, ispirata a rimagnetizza, diciamo, quello che comprate con le tazze, una parte viene girato a me che ne ho create, altrimenti tramite Splitted, che è il servizio che utilizzo per ricevere donazioni, parete, sia ancora, neanche questo video, mi ricordo di ringraziare che mi ha fatto le ultime donazioni, abbiate pazienza, ma al prossimo video spero di segnarmelo, perché mi sono segnato quello che devo fare, ma questo mi sono dimenticato di nuovo, scusate, però vi ringrazio comunque, in specie per le recenti donazioni, verso le donazioni vi aiutate a realizzare un sogno, che non sarà quello di andare in Inghilterra a questo punto, per via dei vari casi di focolai, eccetera, eccetera, magari sarà qualcun altro, qualcos'altro, non potrò andare neanche a seguire il corso di medialità, abbi d'Italia, perché quello che voglio fare io quest'anno non lo fanno, sinceramente non ho il 90% dei corsi che volevo fare, inclusori a Dramatics Energetics, sono stati cancellati, per cui un po' non so a questo punto che farò, per cui diciamo alla prossima, al prossimo anno qualcosa farò, però intanto un modo di ringraziarvi, di sostenere il canale, scusate la digressione, però era giusto per dire. Bene, parliamo purtroppo di una piaga che colpisce tutti gli affiammati d'Italia, e anche non d'Italia, ma anche purtroppo all'estero, insomma, purtroppo questa cosa proprio vi è entrata nel cervello e bisogna fare in modo di levarvela, che è il mito, la balla del divino femminile e del divino maschile e delle fiamme gemelle, ok? Prima di tutto, nei commenti scrivi se, diciamo, questo concetto lo conosci, e se, diciamo, fino ad ora ci hai creduto, addirittura se hai visto video sull'argomento, magari che ne so, ne parlano, tipo nei classici video con le letture, per il divino maschile e il divino femminile, eccetera, eccetera, ok? Di che stiamo parlando? Perché giustamente qualcuno dice, ok, ma che sono, che sono il divino femminile? Che non è che tutti le conoscono, meno male, c'è qualcuno che conosce, per fortuna, però che cos'è il divino maschile e il divino femminile? Sono un'etichetta, un mito, una narrativa, e per narrativa intendiamo semplicemente una storiella, carina, infiocchettata, impacchettata, in maniera diciamo decente, che gira, circola e che viene perpetuata, purtroppo, da persone che parlo di femminile, ma di femminile secondo me capiscono una cippa, per non dire qualcos'altro, ok, e diffondono questa teoria, questo mito, questa idea, che appunto è una palla, perché è un'idea non vera, attraverso il loro video, il loro lavoro, chiamiamolo lavoro, ma non è un gran lavoro, ok, come nasce questo mito, cioè cosa sono e come nasce, il concetto divino maschile, divino femminile, sostanzialmente partono dall'idea, secondo me, ed è anche il motivo per cui nascono, questo mio parere, dall'idea che, siccome ci sono due polarità, una che spinge, una che si ritira, quindi una che scappa, e una invece che insegue, anche se io preferisco più una che spinge, una che si ritira, che sono maschili e femminili, ok, sono polarità maschile, polarità femminile, ok, siccome ci sono due polarità, e diciamo, se tendenzialmente, la polarità femminile, quella che da apparenza, ci va più sotto, infatti è quella che normalmente, si smazza tutto il lavoro, di superare i propri blocchi, il lavoro di guardarsi dentro, eccetera, 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 il lavoro sulle paure, bla bla bla, qualcuno ha avuto la bellissima pensata, di dire, ok, ma se ti comporti, come se fossi in versione divina, è un po' tipo il Super Saiyan di Dragon Ball Z, no, che diventi, diventi piondo con l'aura, no, versione Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, vabbè, ok, questa la capiranno solo, quelli che vi hanno visto, quelli o quelle, perché ci sono le ragazze, che ha visto Dragon Ball Z, che non l'ha visto, non lo capiranno, vabbè, cercatevi Super Saiyan, e capirete, e cosa vi riferisco, vi farete anche delle grosse risate, immagino, ok, quindi, pensano che comportandovi in versione Super Saiyan, e preoccupandovi di cosa fa, invece, il vostro Super Saiyan baschio, in versione, diciamo, del vostro re, che va così, allora, risolverete, diciamo, la situazione, il problema che c'è, di comunicazione, di relazione, troppo che la vostra fiamma gemella, ok, e chiaramente, quando hanno detto questa cosa, giù, a fare video, su video, su video, con letture, messaggi, eccetera, per il divino femminile, ma soprattutto, per il divino faschile, che fa, sto divino femminile, sto divino maschile, che pensa, che dice, quando torna, ma ti tradisce, eccetera, letture, su letture, su letture, in video, ok, se guardate questa roba, ragazzi, ho un messaggio per voi, stop, 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 basta, basta, ok, basta, cioè, smettete di vedere, questa roba, smettete di vedere, questa immondizia, questa spazzatura, ok, perché, perché il fatto di, diciamo, aderire, connettersi a quest'idea, che è quella di divino maschile, divino femminile, porto tutta una serie di problemi, secondo me, molto gravi, nel percorso di fiamme, allora, punto primo, se parliamo di divino maschile, di divino femminile, tendiamo a creare una separazione, perché appunto separiamo il maschile dal femminile, e ancor di più, espressi in questi termini, lo scriviamo, creiamo una separazione di genere, quindi sembra che c'è il maschio, che è il divino maschile, e poi c'è la femmina, che è il divino femminile, le fiamme sono solo maschio e femmina, assolutamente no, ci sono anche fiamme che possono essere dello stesso genere sessuale, ok, per cui, levatevi dalla testa questa idea, che la fiamma sia una donna o un uomo, assolutamente no, sono maschile e femminile, quello sì, ma si parla di polarità, di energia, non di qualcosa sul piano fisico, e qui vediamo al secondo problema, oltre alla separazione, la divisione di genere, ok, e le discriminazioni di genere legate attorno a questo, secondo problema è la separazione, focalizzarsi sulla separazione, e sul piano fisico, quindi sul piano fisico c'è un maschio e donna, e noi ci focalizziamo su quello, quindi sull'involucro, sul corpo, questo cosa fa, alimenta l'ossessione, alimenta la separazione, alimenta tutta una serie di cose, che non dobbiamo assolutamente alimentare, in maniera più assoluta, che vanno contro tutto quello che vi dico, nei video, chi mi segue da un po', perché c'è chi mi segue da un anno, addirittura mi segue da due, sa, queste cose le ho dette già, però le ripeto, perché evidentemente siete duri, decoccia, come si dice qua l'abruzzo, e non vi entra, cioè ragazzi, se vi focalizzate sul piano fisico, su quello che fa la fiamma, su quello che dice la fiamma, il vostro numero maschile, non ne uscirete, proprio non ci caverete un radio albutio, ne uscirete solo matti, andrete proprio in psichiatria, c'è gente che conosco in psichiatria, per cercare di capire che cacchio fa la fiamma, cioè è finita, non è una battuta, purtroppo l'ho inconosciuta sta gente, per cui non siate stupidi, non siate l'ennesima persona, finisce che dà di matto, e diventa matto, e poi vi scrivete che pensate di essere impazziti, beh se vi preoccupate di cosa fa l'altro, sicuramente impazzirete, cosa fa l'altro, scusa, o l'altra, sicuramente impazzirete, ok, cioè non dovete preoccuparvi di che cosa fa, il problema è che questo tipo di mentalità, questo tipo di idee, questo tipo di etichetta, con il divino maschile, il divino femminile, non fa che alimentare tutto questo, non fa che alimentare l'illusione della separazione, dice in gabbia, vi costringe a pensare appunto in questi termini, vi costringe a focalizzarvi sul piano fisico, vi costringe a focalizzarvi sulle azioni, che è la cosa più sbagliata di tutte, quindi cosa fa il divino maschile, ma mi pensa, non mi pensa, cosa pensa, cosa pensa di te, cosa pensa dell'altra, ma ci sta ancora con l'altra, eccetera, cioè ragazzi, no, cioè assolutamente, queste cose non ci riguardano, non ci interessa, il percorso di fiamma non è un percorso fisico, è un percorso animico, non so come dirvelo, non so come farvelo capire, vi focalizzate troppo sul piano fisico, il piano fisico non ci interessa, è irrilevante il piano fisico, ok, cioè è irrilevante, è inutile, ok, maschile e femminile non sono energie fisiche, cioè non sono due corpi fisici, due volici fisici, sono due polarità della stessa energia, due parti della stessa energia, energia è una, non sono due energie, cioè non dovete preoccuparvi che ci sono due energie, che c'è un'altra energia su cui fare le letture di carte, o simili, le canalizzazioni e quant'altro, sono energie, e sono due aspetti della stessa energia, sono due, diciamo i due lati, dello stesso spettro di banda, ok, quindi quando parliamo di maschile e femminile, parliamo di energie, non di qualcosa di fisico, ok, queste energie, sono energie che hanno un'unica fonte, che è anima, perché sono un aspetto dell'energia di anima, che una è anima, non pensa, anima, sa, anima sente, non ha bisogno di pensare, non ha bisogno di preoccupare di cosa pensa anima, cioè anima sente e basta, ok, quando, se, quando imparate a farlo, riuscite ad aumentare dalle paure, potrete sentire cosa sa anima, cosa è anima, ok, non dovete preoccuparvi di cosa pensa il divino maschile, un altro problema che poi alimentate, l'energia della paura, perché chiaramente se vi preoccupate delle reazioni, sarete soggette alla reattività, cioè vi troverete a reagire a quello che fa l'altro, a quello che non fa, quindi vi porta a una modalità reattiva, non assertiva, che hanno distrutto, dicevo, vi portano a una modalità reattiva, quindi reagite al comportamento dell'altro, quindi quello che dice, quello che fa, eccetera, eccetera, per cui vi porta, se siete reattivi a quello che fa l'altro, siete nella paura, perché così siete nella paura, non lo state scegliendo, state reagendo, quindi in qualche modo state subendo, e potete solo difendervi da quello che fa l'altro, perché voi dovete reagire, cioè come quando giochi a scacchi, e uno fa una mossa, e tu devi rispondere a quella mossa, mentre invece se fai la prima mossa, quindi decidi tu, e non ti devi difendere, cioè puoi attaccare, non perché dovete attaccare l'altro, però, perché se qualcuno dice, Jimmy ha detto, bisogna attaccare l'altro, assolutamente no, però capite il concetto, cioè se dovete reagire, vi state difendendo, qui non dovete, dovete difendervi, dovete agire, dovete scegliere voi, che cosa fare, ok, per cui non dovete stare nella reazione, ok, poi c'è un altro problema, che è un fenomeno molto curioso, cioè nel momento in cui voi siete reattivi, siete costantemente in attesa di input dall'esterno, quindi cosa vuol dire, vuol dire che c'è qualcosa dall'esterno che decide per voi, per cui voi dovete cercare continuamente un nuovo video, con una nuova interazione, in questo video, in cui voi magari scegliete il mucchio di carte, con il messaggio per voi, rispetto a quello che dalle cose da fare, diciamo la deriva estrema di questo, neanche tanto estrema, è che da lì a fare come ho visto fare, che sono veramente le cose assurde, ho conosciuto persone che utilizzavano il pendolo o le carte, e chiedevano al pendolo o le carte, quando andare in bagno, o quando bombare, per bombare avete capito perfettamente che intendo, se no non lo posso dire, perché se no no, YouTube non aveva molto, in termini di un certo tipo, ok? Cioè non è possibile, non può decidere il pendolo o le carte, quando dovete bombare, quando dovete andare in bagno, se dovete girare a destra o a sinistra, quando arrivate praticamente a un incrocio, non esiste, cioè c'è gente malata che ho conosciuto, che veramente ogni singola decisione, che doveva prendere la sua vita, era decisa dal pendolo o dalla carte, secondo voi che effetto ha questo? A parte creare una dipendenza dello strumento, e togliervi la responsabilità del potere decisionale, ma a parte questo, ma crea un effetto ancora peggiore, che quello di avere un'incertezza mostruosa, perché se avete bisogno che il pendolo vi dica, o la carta vi dica, o il video con il nuovo messaggio per dire o maschere, e vi dica come dovete comportare, o cosa sta pensando lui, siete in uno stato di costante, continua incertezza, e insicurezza, cioè dovete capire queste cose, perché finché continuate a vedere questi video, non lo uscirete più, cioè diciamo se queste cose funzionassero, vedendo questi video, risolvereste in breve i vostri problemi con la fiamma, il problema è che invece continuate a vedere video, su video, su video, e siete sempre più confusi, siete sempre più spaventati, perché è così, cioè chiaramente quelli che fanno questi video qua, hanno tutto l'interesse, che voi siate confusi, siate spaventati, siate in incertezza, siate dipendenti da questi video, perché così possono continuare a fare video, su video, su video, mi rendono dipendenti dai loro video, quindi arriventate il loro canale, arriventate la popolarità, infatti questi video fanno, magari, centomila visualizzazioni, cioè io cerco di fare contenuti veramente validi, utili, originali, ogni tanto qualche spunto lo prendo, però poi lo rielabbero, lo faccio mio, insomma, creo comunque dei contenuti originali, e faccio, che ne sono 500 visualizzazioni, c'è gente che fa un video, tipo che cosa pensa lui di te, e fa magari 14.000 visualizzazioni su YouTube, cioè questo mi fa capire, che questi video sono strapieni, sono seguiti da un numero enorme di persone, che sono letteralmente dipendenti da queste cose, che a me le persone spaventano, perché io non voglio persone dipendenti, ma di persone indipendenti, autonome, che arrivino a risolvere da solo le proprie cose, ok, purtroppo questi video creano dipendenza, perché? Perché alimentano la polarità della paura, la polarità della paura, come sapete, è una polarità dipendente, ha bisogno proprio della dose, ha bisogno della scusa per pensare alla fiamma, che cosa fa, preoccuparsi di cosa fa, eccetera eccetera, per cui è totalmente focalizzata sul piano fisico, ma per forza è totalmente focalizzata sul piano fisico, perché non conosce, non capisce anima, non capisce il piano animico, non lo sente, cioè non la sente proprio, perché la mente è staccata dall'anima, ok? Per cui questi video sono seguitissimi, perché sono pieni di gente drogata tra di loro, drogata dalla paura, che si alimenta, diventa costantemente la propria legge della paura, a continuare sempre di più aumenti, più l'energia aumenti, cioè più l'energia all'alimenti e più cresce, perché la natura dell'energia è quella di espandersi, di crescere, il problema è che questo vale anche per le energie che non sono utili, cioè quella della paura, che ci può, diciamo, che ci porta fuori strada, perché ci porta a focalizzarci sulle cose che non servono a niente, che non ci interessano, purtroppo invece così la aumentate, sempre di più la diventate, la diventate, la diventate, più la diventate, la diventate, la paura, a cui aumenta la separazione con la fiamma. Diciamo l'epilogo di questo, cioè le conseguenze di questo, è che se con sé seguite queste letture, ed è un altro dei problemi che hanno, questo tipo di letture in video, è che le predizioni che fanno, tipo, come ne so, sì, lui si accorgerà, tornerà, sta tornando, cambierà atteggiamento versi te, non si verificano, non funzionano, cioè non succedono mai le cose che ci sono nelle carte. Sì, qualcuno mi diceva, non è vero, io ho visto i video di ciccia, formaggia, cartomante obesa di turno, che parla di fiamme, che si fa in G-esperta, coach, eccetera, eccetera, e ci ha zecchato, sì, ci ha zecchato, perché è chiaro, se fa una lettura, e la vedono 12.000 persone, di queste 12.000 persone, statisticamente, 150 persone, ci ha zeccherà la lettura, certo, ma 10.000 e passa, no, per cui, cioè, voi vi beccate questa predizione, poi non funziona, vi crea incertezza, perché dice, cavolo, non è vero, non ha funzionato, io sono confusa, che è successo, allora che fai, ti vai a vedere un altro video, chiaramente, più video vedi, più statisticamente, c'è la possibilità che una su 100.000 ne azzecchi, cioè, è impossibile sbagliare sempre, il 100% delle volte, come diceva il buon Ken White, perché c'è sempre qualcuno, che almeno una volta, una cosa giusta la dice, per quanto possa dire la cosa più assurda dell'universo, ok, il problema è che, chiaramente, questa cosa, vi crea, un solo casino della testa, ok, vi crea, separazione dalla testa, questo non è il percorso delle fiamme, non dovrebbe esserlo, anzi, questo non fa che creare gli ostacoli, sono ostacoli, perché ha diventato sempre di più l'energia della paura, questo non è quello che vi insegno, ragazzi, cioè, il percorso di fiamme e gemelle, secondo me, secondo il mio potesto parere, non ha a che fare con cosa fa il divino maschile, il divino femminile, cosa deve fare, eccetera, assolutamente no, cioè, il percorso ha a che fare, non con l'altro fuori da te, il percorso ha a che fare con te, è un percorso che ti riporta a te, è un percorso interiore, in cui tu ti conosci e ti esplori a livello di anima, in maniera profonda come anima, impari ad amarti a livello di anima, ok, impari come trasmutare la tua energia della polarità, della paura, togliendogli il cibo, togliendogli l'alimentazione e poi trasmutando l'energia dell'amore, che è l'energia di anima, ok, e l'anima non ha un genere, non è divina, maschino, divina femminile, l'anima è, è dentro di sé sia maschile e femminile, ma in realtà non ha genere, perché li trascende, perché li include entrambi, perché in anima non è separazione, è unione, perché l'amore è unione, non è separazione, ok, per cui, c'è anche da capire che, non dovete smettere di preoccuparvi, di quello che fa lui, e se vi usa come una porta girevole, che entra e esce dalla vostra vita, un giorno vi ama, un giorno vi odia, facendo insomma il dottor Jekyll e il mister Ido, come un video recente di cui ho parlato, cioè dovete smettere di accusare, di accusare il divino maschile di questo, perché in realtà lui non sta facendo assolutamente niente, non è che se diventate divino femminile, vi mettete la corona in testa, e fate le regginette di turno, super saiyan, le cose migliorano, ragazzi, non è la strada giusta, perché in realtà dovete capire che anche le vostre azioni, incluso quello di essere ossessionati da questa persona, non sono normali, tra virgolette, cioè l'ossessione, il vostro comportamento ossessivo, e lo spingere eccetera, sono anche quelli guidati dall'energia, voi siete guidati, non le siete consapevoli, come lui non è consapevole, tra virgolette, di farti a volte del male, o di scappare, o di non aprirsi con te, o di usarti come una porta girevole, di dirti ti amo, il giorno dopo sparire, e tutte queste cose qua, cioè non potete accusare la persona di questo, ok, cioè è importante capire questa cosa, ok, cioè per cui capite come funziona l'energia, come l'energia in generale, cioè l'energia maschile e femminile, ma comunque la stessa energia, cioè cercate di capire questa cosa, la miglior cosa che puoi fare, in questo momento per il tuo percorso, se ancora segui questi video del cavolo, questi video avrete spazzatura, è una e una sola, smetti di vederli, smetti, basta, cioè non li vedere più, non ci perdere tempo, ok, e per favore, invece di dire, di seguire o commentare questi video, scrivi nei commenti della cartomante obesa che li fa, delle canzi delle cartomante obese che li fa, perché ce ne sono varie, scrivi mettiti a dieta, questo gli dovete scrivere, altro che sei bravissima, o hai zaccato la predizione, mettiti a dieta, ovviamente sto scherzando, vorrei che lo fate veramente, però capite che da queste persone, se vi parlano di divino maschile, di divino femminile, magari vi offrono anche dei servizi, con le letture, che ne so, sulle fiamme gemelle, le letture energetiche, canalizzazioni, che ne so, letture, con le carte, che ne so, degli oracoli del futuro, della da fiamma, piuttosto che, degli oracoli sulla reincarnazione, della fiamma, eccetera, scappate da queste persone, che vi offrono questi servizi, perché non hanno la più pallida idea, di che cosa sono le fiamme, che stanno portando avanti, delle cose che sono completamente inventate, che non esistono, non fanno parte del percorso, sono assolutamente inutili, anzi deleterie, vi stanno solo rallentando il percorso, vi stanno deviando il destino, proprio letteralmente, ok, facendovi mettere molto più tempo, molti più anni, per poter avere la possibilità, di riunirvi con la fiamma, e di conoscere un profondo come anima, inutilmente, cioè, ci spendete pure i soldi, facendo le letture a queste persone, lasciate perdere, scappate, a gambe elevate, da queste persone, spegnete il video, proprio stop, basta, cioè, non ci pensate proprio, ok, quindi, capito questo, e spero di aver chiarito una volta per tutte, che cosa penso al riguardo, per cui non me lo chiedete più, e soprattutto, non ne parlate, per l'amor di Dio, nei miei gruppi, perché nei miei gruppi, ancora sento gente, che parla di vino maschile, di vino femminile, per carità di Dio, non ne parliamo, proprio di video, aiutatevi a eliminare, questo concetto, dal mondo delle fiamme, che fa solo danni, ok, se invece volete avere, gli strumenti veri, gli strumenti che funzionano, gli strumenti pratici, senza perdervi, narrativi, miti, etichette, stronzate, cosa migliore potete fare, è iscrivervi al mio percorso, rimagnetizza la tua fiamma gemella, nella tua vita, che è il percorso che ti spiega, come riunirti alla tua anima, come bilanciare le tue paure, come allinearti alla tua anima, e quindi alla tua fiamma gemella, che è la tua anima e sei tu, ok, e sapere come fare al meglio questo percorso, senza aver bisogno di dipendere da letture, pendoli, canalizzazioni sulle fiamme e quant'altro, cioè quella roba, lasciatela perdere, ok, perché non serve a niente, il percorso di fiamma, il pendolo, per capire qual è la di estesia, se la tua fiamma o meno, lasciate perdere, c'è una gente ignobile, stessa cosa, con letture di carte, con le letture per il divino maschile, ma che ve ne fate, volete gli strumenti pratici, qualcosa che veramente funziona, secondo il mio stile, allora scrivetemi al percorso di magnetizza, come si fa? Vi dovete mandare un'email, al mio indirizzo di posta elettronica, gbfascina, chiocciola gmail.com, jdventus, idimola, mdmirano, mdmirano, idimola, fascina come fascina di regno, tutto minuscolo, tutto attaccato, chiocciola gmail.com, qui sotto in descrizione, troverete la mia email, quindi aprite la descrizione del video, leggetela sempre, ci sono informazioni utili per voi, quindi ve leggeteli, trovate la mia email, e scrivetevi un messaggio, dicendovi, guarda Jimmy, ho visto video, mi sono piaciuti, mi interessa sapere di più, su rimagnatizza, mi dai maggiori informazioni, allora vi darò, un questionario, con delle domande a corrispondere, per capire chi siete, che situazione avete, se siete adatti per il percorso, perché non prendo tutti, ok? Per tutti gli altri, ci sono i video, con le letture per il divino maschile, il divino femminile, contateci che vi aiutano, sì sì, per cui, dicevo, iscrivetevi, fatemi comunque domande, in questo video, quindi iscrivetevi, se vedevate questi video del cavolo, e se finalmente, dopo questo video, avete capito, dovete smettere di guardare sta roba, ok? E, come vi posso dire, se volete supportarvi, e ringraziarvi, per quest'ulteriore risorsa, per quest'ulteriore video che ho fatto, fatemi una donazione, tramite Spritted, qui sotto in descrizione, trovate il link, che è un servizio per collette digitali, diciamo, tramite, ti spring, comprando le tazze, che ho creato per il magnetizza, oppure, mettendo vi piace al video, se proprio non potete fare altro, mettete vi piace al video, iscrivetevi al canale, condividete il video, fatelo conoscere, i vostri amici, le vostre amiche, magari sono affiammati pure loro, e non sanno queste cose, e stanno ancora vedendo questi video, ok? Quindi fateli conoscere il mio lavoro, suggeritevi nei commenti, i temi, e, dirette, o video, insomma, dirette, vabbè, dirette ancora è presto, però ne faremo tra un po', video, su un tema, fiamme gemelle, che magari vi piacerebbe, che facessi, o comunque fatemi domande, che così mi aiutano, e mi stimolo a creare nuovi video, iscrivetevi al mio gruppo, riprosi regressive, il mistero delle fiamme gemelle, qui su Facebook, e tra parentesi, per contattarmi, potete contattare, tramite, vabbè, la mia mail che vi ho dato, il mio profilo di Facebook, che è Jimmy Fascina, la mia pagina professionale di Facebook, che è Jimmy Fascina, ipnologo, vi potete contattare tramite Instagram, tramite Fascina, cercando Fascina Jimmy, ok? E presto, si spera, di nuovo sul mio sito, gimbifascina.it, che per adesso è irraggiungibile, ok? Vi trovate lì, mettete mi piace, e ragazzi, io spero di aver carito una volta per tutto questo, buon percorso a tutti, e ciao da Jimmy Fascina, e alla prossima, buon proseguimento.